Bene, così cari amiche e cari amici, siamo arrivati al terzo match. Nanny William, canotta rossa contro Shazad Amir, canotta blu. E si parte. Siamo alla categoria Elite 67 kg. Più alto Amir. Sono tutti e due in guardia ortodossa, è partito con quel destro di assaggio Amir. Tiger Gym per Nanny William. Biagini Rimini Box per Shazad Amir. 27 anni per Nanny William e 27 per Shazad Amir. Poi nel secondo tempo vi leggerò un pochettino il passaporto dei ragazzi, le statistiche. Tanto godiamoci questo bello terzo match. Prima ripresa. Più alto, più alto Amir. Deve entrare nella guardia di Amir. William. Sono lì che si studiano ancora. Sono dei colpi di assaggio ancora. Non è partita la danza. Montante di Amir. Bene, risponde William. Bene, bene, quel destro di William. Risponde bene Amir. Sento Biagio, sento Biagio all'angolo. Cerca di inquadrarlo, cerca di inquadrarlo. William, 1-2 di Amir. Amir sotto sopra a William. Prova a tirare il jab. Uno prova il destro anche. Fuori misura con il destro di Amir. Chiede continuità a Amir. I colpi dritti sono qua all'angolo, sono qua all'angolo e vengono via. Chiedete tre colpi. Chiedete colpi il maestro Fabio Omini. Fuori misura William. Colpi un pochettino telefonati di Amir. Fino ancora non è che ci sono stati dei colpi pulitissimi fuori misura. Fuori misura William. Oh, fuori il tronco! E così finisce anche questo primo tempo. Bene, così con le immagini, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al secondo tempo di questo terzo match. Siamo nella categoria Elite, 67 kg. Siamo nei pesi Welter. Nanni William contro Shazad Amir. Prima ripresa in parità. Fuori misura, fuori misura Amir. Risponde bene William. Nanni William è un 5-4-1. 5 vittorie, 4 sconfitte e un pari. L'ultimo match l'ha disputato il 16 luglio del 2022 a Fano, dove ha perso. Quindi Nanni William è un pochettino lontano dal ring, mentre Shazad Amir ha 6 match, una vittoria, 4 sconfitte e un pari. L'ultimo match l'ha disputato il 13 maggio, dove ha vinto. Fino a questo momento non si sono viste delle azioni che ci hanno fatto sobbalzare. Bene, adesso ancora William. Finta, finta la partenza a William. Sui guantoni il destro di Amir. Molto chiuso, molto chiuso Nanni William. Prova sotto, prova sotto. Montante, montante time. Quella montante sotto ha fatto perdere il paradenti a Nanni William. Il referee porta il paradenti al coach, a Fabio Mini, lo lava. Vedo anche il vichingo Luka Berges. Vi ricordo che da regolamento non possono perdere il paradenti per tre volte. Colpi, colpi, colpi larghi di Amir. Lo porta alle corde, 1-2. Adesso buona, buona, buona box di Amir. Entra Nanni, Nanni vuole entrare William, vuole entrare la guardia. Gigioneggia, gigioneggia. Amir si appoggia alle corde Nanni William. Prova a sparare. Lo sfida, lo sfida. Lo sfida Nanni William. Lo sfida. Sono qua, è arrivato un destro. Un destro pulito, preciso. Infatti sentiamo anche il pubblico. Adesso, ancora, adesso Amir. Buon momento di Nanni William. Adesso col gancio sinistro. Scattano gli ultimi dieci secondi. E lì alle corde. Sazad Amir. Sembra stanchissimo, sembra stanchissimo. Stop. E finisce il secondo tempo. Bene, così, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al terzo tempo di questo terzo match. Nanni William e Sazad Amir. Ho visto nel secondo tempo un leggero vantaggio per Nanni William. Vediamo se Sazad Amir riesce a fare qualcosina in più. L'ho visto un po' affaticato. Lo sfida. Lo sfida gigioneggia, gigioneggia. Nanni William, come un esperto boxer, bella la flessa torsione. Un colpo al corpo di Amir. Ancora, ancora. Adesso bene quel destro d'appoggio di Nanni William. Chi va all'angolo? Ancora quella a destra. Ancora quel destro di William. Nanni William. Nanni William fa fatica a tenerli a distanza. Il referì Marco del Bianco ancora. Colpi. Prova fuori. Ancora bene quel sinistro. Ancora quella a destra. Vedo un attimo in difficoltà. Sazad Amir. Balla, balla sulle gambe. Nanni William. Lo guarda. Lo guarda. Però lo punisce Sazad Amir. Non ne hanno più comunque ragazzi. Non andiamo bene. Ancora quel destro di Nanni William. Nanni William. C'è molto di Nanni William in questo terzo round. Deve fare qualcosina in più. Sazad Amir. Forza Amir. Se vuoi portare a casa il match deve fare qualcosina in più. Più reattivo. Più reattivo. Più reattivo Nanni William. Non si muove. Passivo. Passivo. Sazad Amir. In calza. In calza. In calza. In calza. Stop time. E' uscito il paradenti a Nanni e William. E' la seconda volta che esce il paradenti. Alla terza si deve sospendere il match se non è cambiato il regolamento. Infatti il referì Marco Delbianco. L'ho avvisa che è la seconda volta che perde il paradenti. Ok. Siamo nell'ultimo minuto. Web 1-2 di Amir. Ancora bene quel diretto di quel jab sinistro di Nanni William. Vediamo se Sazad Amir fa qualcosa di più. Bene ancora quel diretto destro. Ancora colpito di sbaramento di Nanni William. Arretra. Arretra. Sazad Amir. Un destro. Questo ragazzi è un destro precisissimo. Anche al corpo. Ancora Nanni William. Che comunque è affaticato. Respira. Respira. Respira a bocca aperta. Respira a bocca aperta. e dovrebbe modificare questa sua impostazione un po' gigionesca Nanni William. Comunque sta dando tutto gli ultimi dieci secondi. Bene, bene ancora con Nanni William. Ed è finita. Ed è finita anche questa terza ripresa. Bravi, bravi, bel match. Come vi dicevo, siamo nella categoria 67 kg. Siamo nella categoria Pesi-Welter. Siamo alla categoria. Per tutti vince l'angolo blu. Bene, all'angolo blu porta a casa il match. Bene, bene. Grazie a tutti.